Stamattina ad Expo in occasione della giornata del latte andate scena il CIS Test, la prima storica sfida tra i grandi formaggi italiani delle diverse regioni e gli incredibili tarocchi venduti con lo stesso nome in tutto il mondo, a smascherarli la Col di Retti con il contributo dell'osservatorio Agromafie. Anche la nostra provincia ha partecipato al test con uno dei formaggi siciliani più famosi. Dalle 10 nel padiglione Col di Retti, insieme al presidente regionale Alessandro Chiarelli e al direttore Prisco Lucio Sorbo, è stato infatti prodotto il ragusano DOP. Dal Ragusa al capoluogo Lombardo ne sono arrivati 150 chili, una perfetta scenografia per l'opera di due casari che spiegheranno la lavorazione dalla cagliata alla forma. Tina, Masted e tutte le attrezzature sono quelle previste dal disciplinare, un modo per tutelare il patrimonio caseario locale, troppo spesso penalizzato dalle imitazioni straniere. La produzione siciliana di latte nel 2014-2015 ha rilevato la Col di Retti siciliana e è stata di più di 178.000 tonnellate in 1.300 stalle, quella di ragusano di 150 tonnellate. Pecorino siciliano, ragusano, piacentino e vastedda del belice sono i magnifici quattro formaggi siciliani a denominazione di origine protetta, che si aggiungano alle oltre 30 specialità casearie tipiche e tradizionali. Tra i primati del formaggio della nostra isola, ricorda ancora la Col di Retti, spicca il pecorino, il primo ad essere stato inserito tra i prodotti storici protetti.